Si è svegliato a mezzanotte e ha dato spettacolo. L'Etna torna a farsi notare con una fontana di lava pulsante e un trabocco lavico dal cratere di sud-est. È stata una fase in crescita di energia fino al suo completo esaurimento seguito e monitorato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Circa un'ora dopo l'inizio del nuovo fenomeno, sul cratere di sud-est si sono attivate altre bocche in direzione della bocca della sella, alimentando un flusso lavico diretto verso sud-ovest. Una colonna eruttiva si è alzata verso il cielo sopra la cima dell'Etna, andandosi a confondere con l'immagine della luna che tramontava. Successivamente l'attività si è ulteriormente intensificata, generando getti di lava alti tra gli 800 e 1000 metri. La notte scorsa abbiamo assistito a quel che è stato certamente fra i parossismi più intensi e magnifici del cratere di sud-est dell'Etna, ma con questa attività in corso non c'è pericolo. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Catania Boris Benchke. L'esperto sottolinea che non c'è pericolo in caso di eventi come questo e che grazie al vento molto debole la ricaduta di materiale piroclassico questa volta sarà estremamente limitata.